E' considerata un'azienda leader di mercato nel settore dell'automotive, dei motori marini, della propulsione aeronautica e della costruzione dei sistemi complessi per la produzione di energia da fonti alternative. Stiamo parlando della CMD di Attella che in questi giorni festeggia i 25 anni di attività del primo stabilimento realizzato nella valle di Vitalba. Siamo partiti nel 1989 con 14 dipendenti, oggi ne contiamo più di 195, un risultato sicuramente importante, abbiamo due plessi produttivi qui a Attella, ne stiamo per aprire un terzo che è in fase conclusiva e speriamo appunto nei prossimi tempi, nei prossimi anni, 12-18 mesi di poter ancora implementare la forza produttiva della nostra azienda. Tra le altre cose l'azienda produce testate assemblate destinate alla Maserati, all'Alfa Romeo, alla Grascero Chia, all'innovativo mondo Fiat Ampio e poi il settore della ricerca applicata dove la CMD investe risorse a due cifre in sinergia con i ministeri competenti. Siamo passati dal famoso miliardo e 200 milioni di lire, cioè pari a 0,6 milioni di euro del 1989 come fatturato, ai 26 dell'anno scorso e ai probabili 35 di quest'anno. Quindi risultati abbastanza importanti che definiscono una crescita importante della nostra realtà.